Sindaco dove ci troviamo? Siamo all'esterno dell'ex caserma Salsa, uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana che in queste settimane è cominciato qui nel nostro comune e che vedrà investire le risorse del PNRR. Questa è una restituzione di 23 mila metri quadri di territorio comunale che da sito abbandonato diventerà un luogo rigenerato e utilizzato dalla nostra comunità. Vi faccio vedere quali sono i progetti che metteremo in campo. Siamo all'interno ma in particolare dove? Sì, questa è l'area esterna della caserma Salsa che diventerà un polmone verde con una forestazione urbana e un parco didattico che vedrà inserito all'interno anche un anfiteatro e dei luoghi dedicati allo studio, al tempo libero con addirittura una biblioteca. Allora cominciamo da questo edificio, che cos'era e che cosa diventerà? Questa era una vecchia officina della caserma e diventerà un luogo pronto ad accogliere le start-up, gli studi universitari, aule studio, sale riunioni. Troverà spazio anche un porticato verso la viale Brigata Marche quindi con un arretramento e apriremo più varchi perché l'obiettivo è che la caserma non sia più delimitata ma sia permeabile alla comunità tant'è che ci sarà una pista ciclabile che collegherà le acquette al quartiere di Selvana. Come potete vedere gli spazi sono davvero ampi. Pensate che nei 23.000 metri quadri di area recuperata più di 10.000 sono all'interno di questi immobili e saranno interamente restituiti alla comunità. Ovviamente lo stato di degrado di questi immobili è abbastanza evidente però dobbiamo avere la forza e la voglia di immaginarlo completamente riqualificato perché in queste settimane i cantieri sono cominciati. Sindaco abbiamo visto questa parte di intervento di riqualificazione, adesso dove andiamo? Questo è un cantiere articolato che si svilupperà ovviamente in più fasi. Oggi abbiamo visto la prima fase, domani vi racconteremo il proseguio dei cantieri e la seconda fase.